Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questo nuovo appuntamento con le dirette del Giovedì del Dipartimento Scuola e Università del Partito Comunista Italiano. Oggi riprendiamo un altro dei nostri filoni, noi come sapete abbiamo alcuni filoni, uno più dedicato alle attualità, alle lotte, ai problemi della scuola e dell'università e degli apparati formativi e un altro più di riflessione che alterniamo. Oggi proponiamo una discussione che sarà di riflessione ma avrà anche una sua rilevanza e una sua importanza rispetto ai problemi che abbiamo di fronte. Una discussione che facciamo con il nostro carissimo compagno che è già stato ospite in queste nostre trasmissioni, che è stato animatore di queste nostre dirette, Ferdinando Dubla. Ciao Ferdinando. Buonasera a tutti. Da Taranto, un compagno molto impegnato nella riflessione culturale oltre che nell'iniziativa politica. Tra l'altro vi consiglio, anche per approfondire i temi di stasera, ma per tante questioni, di visitare il blog del Lui Anima che si chiama L'Analisi e la classe, in cui ci sono tanti materiali molto importanti e riflessioni assai significativi. Di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di un vecchio libro, poi ristampato in tempi più recenti, di Manacorda, che è di fatto un'antologia di testi di Antonio Gramsci. Dal titolo significativo, già di per sé esplicativo del perimetro concettuale che vogliamo indagare oggi, l'alternativa pedagogica. Quindi Gramsci e la pedagogia, Gramsci e la cultura, Gramsci e la scuola. Perché questa proposta? Innanzitutto perché con la diretta di oggi iniziamo una serie di dirette che colleghiamo a una data importante che è di fronte a noi nei prossimi mesi. La fondazione, i cento anni della fondazione del Partito Comunista Italiano. Per noi è un appuntamento importante, ma non è un appuntamento celebrativo, è un appuntamento importante per ripensare questa storia, per capire cosa ancora possiamo trarre da questa storia e noi pensiamo sia molto. Ovviamente lo faremo dal nostro punto di vista, dal punto di vista di comunisti e comuniste particolarmente invegnati nel mondo della scuola, dell'università, della cultura e quindi Gramsci da questo punto di vista è ovviamente centrale. Non c'è bisogno di tratteggiare la figura di Antonio Gramsci, forse c'è bisogno di sottolineare ancora una volta invece che Gramsci è una presenza eccezionale, straordinariamente presente nel panorama intellettuale del mondo. È probabilmente l'autore italiano in assoluto più tradotto, con una presenza sempre più forte in ambiti disciplinari, in contesti culturali assai diversi. Oggi vogliamo in particolare approfondire quello che Gramsci ci dice sulla cultura, sull'istruzione, sulla scuola, sull'organizzazione della cultura. Allora chiederei intanto, per cominciare a Ferdinando, di farci un quadro a partire dal collegamento fra due questioni fondamentali, fra due temi fondamentali Gramsciani che sono il concetto di egemonia e la prospettiva rivoluzionaria, con invece questa riflessione specifica che lui fa sulla cultura e sulla trasmissione della cultura e quindi anche sulla scuola e gli apparati formativi. Ferdinando. Sì, noi abbiamo proposto questo titolo, l'alternativa pedagogica, proprio per richiamare questa pubblicazione di Mario Alighiero Manacorda, che è uno degli intellettuali organici, potremmo dire, al Partito Comunista che ha riflettuto più a fondo, in maniera approfondita, sui temi di filosofia dell'educazione e di pedagogia di Gramsci. Questo libro sembra datato, 1972, non è altro che un'antologia di scritti di Gramsci, ma è stato rieditato con l'introduzione dello stesso Manacorda nel 2012, proprio per l'attualità che Manacorda ravvisava nei temi che Gramsci discute, in particolare nei guaderni dal carcere, che come si sa sono stati redatti dal 1929 al 1934, in particolare a Turi, e nelle lettere, nelle lettere dal carcere. Ora, i temi che vengono intrecciati non sono soltanto ovviamente quelli strettamente pedagogici, perché sebbene la pedagogia abbia in Gramsci una sua autonomia, quindi ha bisogno di una riflessione autonoma, ovviamente questo tema viene collegato a tutti i temi politici o filosofici o più strettamente teorici della cosiddetta filosofia della prassi, come lui appunto chiamava, come chiama nei quaderni, l'impianto teorico complessivo del marxismo. Quindi la pedagogia, l'educazione, la scuola, i metodi educativi vengono collegati strettamente ai temi più generali che sono cari ad Antonio Gramsci, in particolare il tema dell'egemonia, in quanto la scuola è forse la principale delle istituzioni sovrastrutturali che ha un compito fondamentale che è quello di trasmettere cultura, sapere alle nuove generazioni. Quindi come tale è una delle istituzioni sovrastrutturali più importanti. La centralità della scuola è la centralità di un'istituzione che per il suo carattere pubblico deve naturalmente essere oggetto di una riflessione meditata. Ora in tutta la filosofia di Gramsci, in tutti gli scritti di Gramsci c'è diciamo trasversalmente il tema di una intenzionalità pedagogica, l'intenzionalità pedagogica cioè dell'educazione, lo c'è anche nel partito, nella funzione degli intellettuali, nella cultura e nella definizione della cultura in rapporto alle classi dominanti o alle classi subordinate. Quindi l'intenzionalità pedagogica è, scrive Manacorda e io sono d'accordissimo su questo assunto, l'intenzionalità pedagogica è l'intenzionalità della coscienza, perché per la trasformazione rivoluzionaria del mondo c'è la necessità della formazione di questa coscienza. Ora ovviamente questa premessa serve anche per negare il valore di indottrinamento che invece è tipico delle religioni ed è tipico anche del senso comune che viene veicolato dalle classi dominanti. Quindi non si tratta di un indottrinamento, ma l'obiettivo prioritario, l'obiettivo primario dell'educazione deve essere la consapevolezza critica. Quindi si riallaccia proprio ai temi della coscienza. Manacorda fa un ulteriore passo in avanti in questo testo, presentando questi scritti di Gramsci. Afferma che Gramsci lega le riflessioni educative, le riflessioni pedagogiche alla struttura di produzione, in questo caso ai tempi di Gramsci era il fordismo, l'americanismo e il fordismo, che naturalmente disegnano una società del capitalismo diversa anche dalle fasi precedenti, molto pervasiva in cui riesce l'americanismo e il fordismo a plasmare l'intera società civile e il mondo del lavoro. Quindi noi possiamo centralizzare nella lettura di Manacorda e cercare di attualizzarla anche, questo problema che abbiamo anche come operatori della scuola. Cioè da una parte la scuola come riproduzione del consenso e della riproduzione del senso comune o del folklore, cioè come filosofia dei semplici delle classi dominanti e dall'altra la necessità di una trasformazione strutturale della società secondo valori nuovi, secondo quello che per Gramsci deve essere un umanesimo integrale. Ecco qui la lotta per l'egemonia. La riforma intellettuale e morale passa dalla scuola, cioè la scuola è la principale istituzione sovrastrutturale dell'egemonia. È una lettura che ha trovato conferma, io credo, negli anni che viviamo, una trasformazione della scuola, ma nel senso dei valori veicolati dalle classi dominanti, perché se non c'è appunto una lotta per l'egemonia, passa una visione della scuola, dell'educazione, dell'educando stesso, che è funzionale agli interessi delle classi dominanti e ai rapporti di produzione che questi naturalmente generano e tendono a riprodurre costantemente. Poi Althusserl chiamerà l'apparato riproduttivo ideologico la scuola. In Gramsci non c'è questa lettura semplicistica della scuola come pura riproduzione, c'è una dialettica che nella scuola si sviluppa e in questa dialettica naturalmente le forze del cambiamento, le forze della trasformazione strutturale della società, perché bisogna legare la scuola anche ad una visione più globale della società, hanno questa dialettica, è una dialettica aperta appunto agli esiti, che la lotta delle classi sociali appunto ci presenta davanti. Benissimo, molto chiaro quello che ha detto Ferdinando, io sottolineerei due aspetti, due, tra le tante cose che ha detto, due questioni. La prima è il tema dell'intenzionalità pedagogica, che è da Gramsci, ma io credo che sia un elemento che da Gramsci passa poi a tutta la tradizione del comunismo italiano. Proprio questo aspetto pedagogico, questo aspetto di trasmissione attiva del sapere, di cui persino le sezioni poi sono soprattutto nel secondo dopoguerra, anche elemento, proprio elemento non solo di organizzazione politica, ma insieme all'organizzazione politica di alfabetizzazione persino. Non furono pochi i contadini del Mezzogiorno che impararono a leggere, non nelle scuole, ma nelle sezioni del Partito Comunista Italiano. L'altra cosa che vorrei sottolineare, che è importante, importante per noi, importante per noi oggi, questa idea che esce molto forte dalle parole di Ferdinando della concezione gramsciana della scuola, proprio della struttura scolastica come campo di lotta, cioè come arena in cui si affrontano e quindi non come rassegnata l'analisi della scuola come trasmissione del pensiero delle classi dominanti, ma come campo possibile in cui si afferma l'egemonia anche del pensiero alternativo, del pensiero rivoluzionario. Adesso Ferdinando però ti vorrei sollecitare, diciamo così, sui nemici, no? C'è un famoso corso di Togliatti, che Togliatti tenne l'esilio, il corso sugli avversari, no? Ecco, io ti vorrei sollecitare a analizzare gli avversari di ieri e di oggi di questa concezione. Gramsci si confronta, confronta criticamente con pensieri forti, forse più forti di quelli, diciamo, delle classi dominanti attuali, il neodealismo, lo stesso attivismo pedagogico, esprime una critica molto circostanziata. Quella critica che è forte verso quelle correnti, ci è utile anche oggi? Ci è utilissima, perché credo che i temi non siano ovviamente gli stessi, ma la metodologia con cui vengono affrontati può essere utile in una battaglia culturale che bisogna continuare a sviluppare. Io partirei, io citerei innanzitutto un passaggio di Gramsci molto bello, anche molto conosciuto, il suo concetto di cultura. Cultura, secondo Gramsci, leggo dal dodicesimo dei quaderni dal carcere, non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura che ha coscienza di sé del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri, cosicché essere colto, scrive Gramsci, essere filosofo lo può chiunque voglia. Quindi la cultura è organizzazione, disciplina del proprio interiore e la presa di possesso della propria personalità. Ho voluto citare questo passaggio di Gramsci, questo passo famoso, celebre di Gramsci, perché bisogna allontanare assolutamente lo stereotipo di un Gramsci che in qualche modo accetta il conformismo, in particolare nella polemica che lui sviluppa sia contro l'idealismo, il neodialismo italiano, cioè Benedetto Croce e Giovanni Gentile con la sua riforma scolastica e dall'altra parte con l'attivismo pedagogico. Sono due critiche diverse, molto diverse, perché da una parte possiamo dire che c'è una versione nei confronti dei valori fondanti del neoidealismo, in particolare in quello di Croce che con la sua riforma aveva in qualche modo ratificato la divisione in classi anche nella scuola, le scuole per l'elite dirigenti, il liceo classico, i licei della cultura classica e dall'altra parte invece gli istituti scolastici professionali che dovevano in qualche modo formare la classe operaia, come se la classe operaia appunto non dovesse pensare ma soltanto eseguire manualmente o professionalmente i compiti lavorativi. Naturalmente Gramsci rifiuta questa concezione, questa concezione classista ed elitaria, come elitaria era anche quello del Croce, di Benedetto Croce che pure a un certo punto dopo il 1925, combatte a suo modo anche una battaglia antifascista dal punto di vista però liberale. Poi vi è invece l'attivismo pedagogico, noi non sappiamo esattamente, Gramsci non aveva tutti gli strumenti in carcere, le riviste, i libri a tal punto da scrivere in maniera precisa, puntuale la sua critica. Naturalmente la critica però si muove intorno alla concezione del fanciullo che l'attivismo pedagogico in qualche modo portava come novità nella storia della pedagogia e in generale come concezione filosofica dell'educazione. C'è un altro passaggio di Gramsci dove dice, e anche in una lettera poi a Giulia, in cui dice che il fanciullo non è un gomitolo da sgomitolare, come appunto lo spontaneismo in qualche modo dell'attivismo pedagogico presupponeva. La centralità del bambino diventava la centralità dei suoi interessi spontanei. Quindi questo per Gramsci è un errore di presupposto nell'educazione, perché il conformismo comunque, che nella scuola elementare per esempio è vero e proprio dogmatismo, il conformismo è un punto di partenza con cui bisogna fare i conti, cioè la visione del mondo, l'architettura concettuale e culturale del soggetto che deve essere educato non può essere astratto, ma deve essere appunto il punto di partenza dell'azione educativa. Quindi questo gomitolo non si sgomitola per arrivare a una personalità creativa, perché questo è l'obiettivo fondamentale, l'ho detto anche all'inizio, l'obiettivo primario dell'educazione secondo Gramsci è la consapevolezza critica, e cioè avere un soggetto che abbia tutte le capacità critiche, mentali e anche pratiche per la propria emancipazione, quindi per la propria autoregolazione. È un po' come la disciplina, la disciplina esteriore coercitiva è necessaria in una certa fase dell'educazione, ma la disciplina interiore deve trasformarsi in una disciplina interiore per essere accettata come tale, e cioè come autodisciplina. È evidente che qui Gramsci ha in maniera molto significativa in testa la società autoregolata, in cui l'autodisciplina è l'autodisciplina dell'uomo collettivo, che non solo ha la funzione di scegliere i valori in cui credere, ma ha anche la funzione di elaborarli, trasformarli e creare, dice Gramsci, l'uomo collettivo. La disciplina collettiva non è coercizione nei confronti dell'individuo singolo, ma è più probabile che l'individuo singolo possa quartare, la volontà collettiva. Quindi questo gomitolo, questa figura metaforica, simbolica del gomitolo che si sgomitola, è l'accusa principale che anche alla stessa Giulia, quindi alla madre dei suoi figli, lui muove, come concezione anch'essa metafisica, perché astrae da un punto di partenza necessario. È come se noi non abbiamo di fronte dei soggetti in carne ed ossa che in qualche modo hanno assimilato l'ambiente culturale in cui sono vissuti fino a quel momento. Per trasformare, per criticare quegli stessi valori di quell'ambiente noi dobbiamo partire comunque dal conformismo, poi trasformarlo in un conformismo dinamico e la disciplina deve essere una disciplina cosciente nell'indirizzo, nella finalità di un'autodisciplina, di un'auto-organizzazione. Se volete, è nell'ambito educativo pedagogico quello che Gramsci in qualche modo immagina per la società socialista, cioè appunto una società autoregolata, l'auto-regolazione dei produttori nella loro produzione, nei mezzi, nelle scelte della produzione. Oltre a Manacorda, negli stessi anni voglio ricordare che Broccoli, per esempio, un altro grande studioso dei temi pedagogici di Gramsci, insisteva non solo sul tema dell'egemonia, ma anche sul tema dell'alienazione, dell'alienazione che la società capitalistica in qualche modo fa soggiacere i soggetti, non solo il soggetto nei confronti del proprio lavoro, quindi il lavoratore, ma anche il cittadino che in qualche modo deve assimilare dei valori di questa società e bisogna che maturi anche una consapevolezza critica per la trasformazione di questi valori in valori collettivi, in valori che in qualche modo disegnano una società più ricomposta dal punto di vista della dinamica della lotta di classe. Questo in qualche modo è la critica sia al neo-idealismo italiano, sia all'attivismo pedagogico, naturalmente molto in sintesi e senza scendere troppo nei particolari. Credo che sia una battaglia ancora attuale, la scuola d'elite per le classi dirigenti per quanto riguarda il neo-idealismo, oppure dall'altra parte una finta centralità del soggetto dell'educazione che è l'allievo, una finta centralità perché in qualche modo si astrae da quelli che sono i suoi bisogni, ma anche il suo punto di partenza. Bene, grazie Ferdinando, ci dai l'occasione anche con le tue citazioni di ricordare, noi ovviamente quando ci avviciniamo a Gramsci ne valorizziamo, ne cerchiamo risposte in questo grande patrimonio intellettuale che ci ha lasciato. La storia di Gramsci è anche la storia di un dramma, di una persecuzione pesantissima e le lettere dal carcere, questo rapporto con Giulia e con i figli, che lui praticamente non conobbe, è il segno di quanto pesante, non si dovrebbe mai dimenticare questo elemento, di quanto pesante fu la persecuzione che il fascismo fino alla morte in pose a Gramsci. Noi tendiamo in qualche modo inevitabilmente a sottolineare più l'aspetto intellettuale, il patrimonio politico, l'eredità politica, ma questo aspetto umano, drammatico che le lettere poi ci restituiscono molto bene, credo sia un elemento sempre da ricordare. Così come è molto importante, io lo vorrei sottolineare, quello che dicevi tu rispetto anche a come in questo contesto si situa il concetto di alienazione, perché credo sia un elemento assai attuale, è proprio su questo che ti vorrei, andando verso la conclusione di questo nostro rapido, però credo molto importante incontro, sottoporti. Noi abbiamo fatto un ragionamento sulla critica di Gramsci all'esistente, alle correnti che erano in campo nella sua fase storica e anche a ciò che questo patrimonio, questo insegnamento, questa critica ci può dare ancora oggi nella nostra battaglia contro nuove proposte e le classi dominanti che però spesso ripercorrono quei sentieri. Ma dal punto di vista della proposta, appunto dal punto è una scuola che aiuti a superare l'alienazione, che invece viene veicolata già in età molto giovanile attraverso la scuola borghese, la scuola delle classi dominanti. Qual è la proposta di Gramsci? In particolare la scuola che Gramsci pensa sia necessaria in una nuova società, qual è? È la scuola per una nuova società. Io ti lancio su questo e poi ascoltiamo la tua riflessione, mi ha molto colpito anche rispetto al dibattito nostro contemporaneo, la definizione che Gramsci dà quando dice che il proletariato ha bisogno di una scuola disinteressata, che è radicalmente un elemento alternativo rispetto a quella che è la proposta invece attuale ovviamente delle classi dominanti e credo che questo sia invece un sentiero aperto per noi che dobbiamo battere con molta forza. Tu che ne pensi? Io penso che è proprio così, ci sono anche delle falsificazioni, abbiamo assistito delle falsificazioni anche in questi anni. Se ricordate bene durante la critica che veniva fatta alla cosiddetta riforma della scuola alternanza lavoro, alcuni hanno messo fuori che Gramsci e tutta la cultura di ispirazione marxista, penso per esempio anche alla cultura dell'URSS, della costruzione del socialismo nell'Unione Sovietica, erano invece per un legame molto stretto tra studio e lavoro. Ora naturalmente questo è vero e falso nello stesso tempo, nel senso è vero perché la scuola non è avulsa dalla vita e quindi naturalmente il lavoro essendo una componente molto importante della vita stessa deve entrare anche nella scuola, c'è l'educazione al lavoro, l'educazione al lavoro, la professionalizzazione del lavoro deve essere anche un elemento, la tecnica deve essere un elemento che deve essere ben presente nella scuola. Dall'altra parte invece abbiamo però un distacco molto netto fra quello che è la scuola e il mercato del lavoro, perché il problema nella società capitalistica non è il rapporto tra la scuola e il lavoro, la vita e il lavoro, ma è tra la vita, la scuola e il mercato del lavoro. C'è quello che in qualche modo Gramsci delinea nel quaderno 22, cioè in americanismo e fordismo, il gorilla ammaestrato, cioè noi non dobbiamo formare dei gorilla ammaestrati disponibili e funzionali al mercato del lavoro, un mercato del lavoro tra l'altro eclettico che in qualche modo funzionalizza sempre la produzione al profitto e non all'utilità sociale dei prodotti che vengono appunto lavorati eccetera. Quindi innanzitutto questo punto che a me sembra di rimente, il rapporto è tra scuola e lavoro e non tra scuola e mercato del lavoro. La scuola disinteressata è la scuola dove non ci devono essere secondi fini, cioè bisogna centralizzare il lavoro scolastico sulla conoscenza, sul sapere e sulla cultura. Il problema è che la cultura delle classi dominanti deve essere trasformata in senso comune e quindi in qualche modo impacchettata, tra virgolette, in stereotipi e pregiudizi che vengono inseriti all'interno del sistema scolastico attraverso il vissuto, attraverso la stessa vita che gli allievi, gli educandi appunto hanno nelle loro famiglie, nel loro ambiente culturale eccetera eccetera. Ora, rispetto ai temi che noi dibattiamo, didattica dei contenuti, didattica delle competenze, il tema che dibattiamo nel rapporto fra la scuola e lavoro. Sono tutti temi che in qualche modo trovano un profilo diverso in Gramsci. Un'altra citazione, anche questa abbastanza famosa di Gramsci, sempre da questo importante quaderno che è il 12 del quaderno del carcere, dice, scrive Gramsci, occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare e nervoso. È un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. Che cosa ci dice? Ci dice che l'educazione allo studio, l'educazione a un sacrificio anche muscolare e nervoso, quindi fisico, oltre che è intellettuale, è necessario per creare un'abitudine positiva allo studio, alla ricerca, all'approfondimento, all'analisi. Cioè sono tutte categorie mentali che devono essere coltivate, perciò bisogna essere colti appunto, che devono essere coltivati nella scuola. Ora, se noi pensiamo al dibattito attuale fra didattica dei contenuti e didattica delle competenze, non è un dibattito astratto o meramente culturale. La didattica delle competenze rimanda a una funzione, diciamo così, egemonica, cioè quella di creare delle competenze flessibili al di là dei contenuti che in qualche modo adattano i soggetti al mercato del lavoro, con il rischio che quando appunto gli allievi escono dalla scuola trovano un diverso mercato del lavoro, una diversa funzionalizzazione di questo mercato, che nel sistema capitalistico è comunque il lavoro servile. Cioè è un lavoro che non prevede una coscienza critica dei processi produttivi, dei processi comunque generali della circolazione, della produzione della circolazione. Quindi parlano le didattiche delle competenze, ad esempio, del mestiere dell'insegnante come facilitatore, una cosa che appunto Gramsci non avrebbe mai accettato. Bisogna ricentralizzare una didattica dei contenuti, bisogna fare in modo che i contenuti del sapere, quindi diciamo la strumentazione culturale, venga riproposta al centro dell'attenzione di una seria riforma della scuola, che non può che essere in senso cooperativistico, perché appunto, come Gramsci ci insegna, la cooperazione fra gli uomini, la collaborazione è molto più produttiva della competizione o appunto dell'individualismo esasperato nella corsa a chi arriva primo, insomma. E quindi la collaborazione, la cooperazione di quest'uomo collettivo in qualche modo, che ha coscienza dei processi che accadono, sia al suo interno, sia in particolare all'esterno di sé, è fondamentale per far sì che la scuola ridiventi quel luogo di conoscenza collettiva, di consapevolezza collettiva, che è necessaria per la trasformazione stessa, è inevitabile la trasformazione, perché noi abbiamo a che fare con le giovani generazioni e quindi le giovani generazioni hanno un compito, quello di trasformare comunque il mondo. Lo vogliamo o non lo vogliamo? Quindi Gramsci scrive ancora, il mediocre insegnante chi è? Un mediocre insegnante dice può riuscire ad ottenere che gli allievi diventino più istruiti, quindi abbiano un aumento di conoscenze, ma non riuscirà ad ottenere che siano più colti appunto, perché per essere colti c'è bisogno della maturazione di una consapevolezza critica, di una coscienza più forte. Quindi la scuola che Gramsci prefigura è una scuola cooperativistica, cioè in cui ci sia l'autogoverno, diciamo, degli attori fondamentali, la centralità dell'educando e la centralità dei loro educatori. Quindi se la scuola viene centralizzata sulle esigenze sui bisogni degli educandi e degli educatori, nel senso di una trasformazione e della consapevolezza critica, noi avremo veicolato quei valori della cooperazione, della solidarietà, della collaborazione, che sono completamente antitetici a quelli di un modello invece capitalistico che è basato sul individualismo, sull'arrivare per primi, sulla, in definitiva, sull'alienazione punto, cioè lo spossessamento di sé che nell'identità personale viene costruita proprio nella scuola in anni decisivi. L'altro esempio che voglio fare è, ad esempio, la formazione degli stessi insegnanti. Noi aspettiamo la formazione degli insegnanti dall'esterno, dal ministero o da istituti privati. Invece il modello di scuola che, ad esempio, proprio Gramsci ha, è quello dell'auto-organizzazione, significa anche la capacità di far circolare conoscenze, saperi, esperienze all'interno stesso degli insegnanti in maniera auto-organizzata, in forma seminariale, non soltanto dall'esterno. Quindi una riflessione collettiva su quella che è l'identità e la propria professione, l'utilità sociale della propria professione, come migliorarla, è una circolazione continua di idee, un incontro fra persone che hanno questo delicato compito e che in qualche modo hanno bisogno di confrontarsi tra di loro per poter migliorare la loro capacità di educare, di istruire, in qualche modo di fare cultura e di produrre cultura. Perché ricordiamo, ognuno è filosofo, ma in particolare nella scuola si formano gli intellettuali della nuova società. Bene, veramente molto importante quello che ci ha detto Ferdinando. Se posso fare una battuta, le parole di Ferdinando su competenze e conoscenze sarebbe assai opportuno che fossero proiettate prima dell'inizio di ogni collegio docente in questa fase, dove si parla spesso a sproposito di questi termini. Io credo che appunto abbiamo fatto un lavoro utile, sia pure un po' rapido come un po' il nostro costume, abbiamo dato dei temi di discussione, abbiamo dato degli strumenti anche, abbiamo indicato degli strumenti. Facciamo girare questo video come gli altri. Luca c'è una domanda, c'è una domanda che leggo, come e dove possiamo reperire i documenti di cui stiamo parlando. Fino alla villa. Sì, il testo da cui abbiamo preso diciamo lo spunto per questa nostra chiacchierata è questo, non so se riuscite a vederlo, è l'alternativa pedagogica. Antonio Gramsci si trova facilmente, sì, è editori riuniti, questa è l'edizione del 2012 che è appunto ricalcata sulla edizione del 1972 in cui trovate tutte le notazioni che appunto abbiamo, su cui abbiamo riflettuto. L'indicazione di andare, di visitare qualche volta il sito di Ferdinando e anche la pagina Facebook denominata Scola Dublatina, se non vado errato, che dà diciamo anche in forma molto fruibile, diciamo spesso delle suggestioni e anche degli strumenti assai importanti. Bene, facciamo questo lavoro, questa domanda ultima, questa richiesta di approfondimento diciamo dimostra anche che un po' il nostro lavoro è utile, il nostro lavoro di sollecitazione oltre che di informazione e di discussione. C'è anche un altro intervento, Luca. Non lo vedo più. Allora, lo leggo io. La parte del sacrificio che lo studia è una prova di nervi e via discorrendo relega Cartesio al 1600 e lo imprigiona lì. Il dualismo mente-corpo è pura astrazione, pura metafisica. Questa è una considerazione più che una domanda, diciamo così. Una considerazione di Salvatore Ferrara. Sì, è un nostro compagno, è un nostro giovane e validissimo compagno della FGC Oltre, ovviamente del partito. Bene, con questi interventi che dimostrano che appunto abbiamo toccato, forse un punto è anche risposto a un'attesa. Noi ci riproponiamo di continuare, all'appuntamento è per giovedì prossimo, presto organizzeremo anche altre cose con Ferdinando, organizziamo ovviamente anche nei territori con questa idea gramsciana, di una scuola che apre la strada a una felicità individuale e collettiva. Noi per la felicità individuale e collettiva abbiamo trovato un nome, è il nome di comunismo. Arrivederci a tutti, ciao Ferdinando, ciao Fabio che ha curato la regia. Buonasera a tutti. Ciao a tutti e a tutte.